Diciamo che con l'assegnazione per ambito delle vele è un modo per stimolare le amministrazioni a continuare a lavorare però facendo rete, altrimenti queste vele non saranno più dedicati. Come ci si può illudere di sopportare l'impatto di altri territori a livello mondiale se non si è insieme? Qualsiasi località ormai estafolata da un soggio contesto regionale o nazionale perde di faccia, a meno che non si tratti di Parigi o di New York o al massimo di Roma. Bisogna fare rete, ma questa scelta ha un valore ulteriore. Ci sono sicuramente dei territori che sono più in ritardo, che richiedono maggiore attenzione. Penso alla raccolta dispensata, alla devoluzione delle acque, ai servizi. Alcuni servizi come quelli del trasporto pubblico richiedono naturalmente investimenti che vanno al di là delle possibilità dei singoli comuni, delle singole amministrazioni. Bisogna lavorare insieme, bisogna che quelli momentaneamente più forti, più avanti, per ragioni diverse, geografiche, storiche, sociali e economiche, tirino in qualche modo la volata a chi è più invitato, perché insieme si può pensare ad uno sviluppo più duraturo.